Stesso numero di decessi per covid rispetto alle 24 ore precedenti e un ricoverato in meno nei nosocomi ionici. Sono queste le ultime cifre ufficiali diramate dall'Asla Taranto alle 14 della 9 gennaio. L'ospedale San Giuseppe Moscati ospita 65 pazienti affetti da covid, 25 in malattie infettive, 26 in pneumologia, 14 in rianimazione. L'ospedale Giannuzzi di Manduria accoglie 54 pazienti affetti da coronavirus, 49 in medicina, 5 in rianimazione. L'ospedale San Pio di Castellaneta conta 50 pazienti affetti da covid, l'ospedale San Marco di Grottaglia ha 36 pazienti affetti dalla sindrome pandemica presso il reparto di medicina. Nella presidio ospedaliero Valle Ditria di Martina Franca ci sono 29 pazienti affetti da covid-19 presso il reparto di medicina, 26 pazienti affetti da covid nella casa di cura Santa Rita. Il centro ospedaliero militare di Taranto ha nelle proprie stanze 10 degenti risultati positivi al covid. Il presidio post-acuzzie di Mottola ha 24 pazienti post-covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 decessi, 2 all'ospedale Moscati, 1 all'ospedale San Pio di Castellaneta, 1 alla San Marco di Grottaglie. Anche 30 pazienti Garbuchati Anche 30 pazienti In Um Mi Un Grazie.